ben trovati oroscopo di lunedì 31 maggio visitazione della beata maria vergine il sole sorge alle 4 e 38 tramonta alle 19 e 37 il proverbio maggio ridente fa allegra la gente ariete settimana a fasi alterne non riuscirete a trovare motivi veramente validi per sentirvi insoddisfatti ma nemmeno altri che vi diano la possibilità di credere di essere personaggi baciati dalla fortuna quindi abbandonatevi sull'onda dell'umore sarà la cosa migliore in ogni senso toro vi sentirete particolarmente ansiosi anche per una serie di contrattempi che vi daranno un certo senso di insicurezza non aggravate il tutto con atteggiamenti pessimistici o rinunciatari che potrebbero solo indebolire la vostra capacità di reazione gemelli sprizzanti idee originali e attivissimi otterrete simpatie da parte di molte persone potrete essere fieri di voi stessi e del vostro temperamento così trascinatore che tenderà a coinvolgere chi è intorno a voi potrete togliervi uno sfizio al quale da tempo state pensando cancro la settimana trascorre su binari di serena tranquillità soprattutto i rapporti con la famiglia saranno sin da oggi posti sotto buone influenze tenderete a privilegiare la vostra intimità a tutto ciò che riguarda i rapporti sociali dolce pigrizia e benessere interiore accompagneranno questa giornata leone scontenti un po di tutto vi ritroverete spesso a dover fermare a tutta velocità per le parole che a volte spontaneamente vi potrebbero uscire dalla bocca offendendo qualcuno anche solo per il tono da voi usato non peggiorate le situazioni pensando alle occasioni migliori perdute vergine nonostante i vostri sforzi il malumore non vi darà tregua di positivo ci sarà un continuo controllo da parte vostra per non far trapelare tutto ciò che non vi piace in questo momento così rischierete di ottenere un senso di disagio fisico fate dello yoga bilancia venere vi strizza l'occhio dallo zodiaco inviandovi note di seduzione terribilmente affascinante e i sentimenti il corteggiamento il gioco dell'amore vi vedranno ricchi di fantasia e di gioia di vivere relegate in secondo piano l'aspetto del lavoro o di eventuali altri impegni scorpione tutto si svolge in maniera tranquilla e senza particolari contrattempi quindi potrete continuare a sentirvi sereni perché non ci sono nubi nel vostro orizzonte ogni tanto magari affiorerà un po di irrequietezza e instabilità tipica del vostro carattere la forma fisica è buona sagittario tensioni affettive e problemi nel rapporto con gli altri vi creeranno momenti di tensione ci sarà una certa riluttanza ad affrontare nuove situazioni perché vi sembreranno pesanti fardelli da trascinare mancheranno l'entusiasmo e l'allegria cercate di reagire tempestivamente capricorno mamma mia come vi vedono arrabbiati gli astri questa settimana su con il morale abbassate la guardia non vi sarà di alcun aiuto a essere così diffidenti verso persone che non lo meritano affatto e tanto meno hanno intenzione di ostacolarvi o crearvi problemi apritevi e dialogate maggiormente acquario buone occasioni di ampliare il giro di amicizie potrebbero esservi rinnovamenti in ogni campo e probabilmente vecchi rapporti ormai versi potrebbero ripresentarsi in maniera molto interessante vi sentirete particolarmente chiacchieroni e non sarà facile fermarvi pesci vivrete giornate parecchio movimentate alle quali risponderete con una buona dose di entusiasmo e se le cose dovessero improvvisamente apparirvi comunque troppo normali ci penserete voi a creare opportunità per diversificarle e renderle più entusiasmanti Grazie a tutti.